R101 Io sono napoletano e credevo che il traffico di Napoli fosse il più disordinato mai visto ma vi posso assicurare che a Caracas, dove sono stato diverse volte Un'anarchia così, un modo di guidare direi praticamente dissoluto Nessuno sa dove andare, nessuno sa cosa fare e se si rompe una macchina si pianta lì in mezzo alla strada senza neanche accostare Queste strade sono state in ferie in Libano, a Beirut Io una cosa così non l'avevo mai vista Chi suona di qua, chi suona di là, chi passa col rosso, chi viaccia incontro a mano la sua strada Una guerra, infatti facevo guidare sempre la mia compagna Chiedi quelle parti, io non mi sono azzardare R101 È in viva voce Lascia il tuo vocale alla 331 80 90 101 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti